19 agosto 2021 mentre in italia ti chiedono il green pass per andare a mangiare al bar e dicono che le dogane alle dogane fanno i controlli qua si entra in slovenia senza nessun controllo tranquillamente siamo nella parte slovena niente e tutto ciò c'è tutto ciò è la stessa cosa si ripete in uscita quindi io tranquillamente rientro in italia senza nessun controllo quindi tutti questi green pass per andare all'estero uscire fare mi chiedono soltanto dove solo nelle situazioni che secondo me non necessitano cioè io sono più convinto di controllare i confini che magari controllare chi va a prendersi il cornetto e il cappuccino al bar ciao 19 agosto 2021 siamo in italia precisamente a gorizia proprio alla dogana dicono che ci dovrebbero essere controlli green pass per passare questa è la dogana io tranquillamente a piedi senza che nessuno mi dica nulla assolutamente nulla che mi faccia nessun controllo qua c'è anche la polizia di frontiera quindi qua siamo ancora nella parte italiana non fanno nessun controllo cioè teoricamente dicevano che per spostarsi per viaggiare per fare mille attività bisogna avere il green pass tampone vaccino guarigione dal covid eppure sto entrando tranquillamente in slovenia tra l'altro a piedi ecco qua slovenia slovenia io supero il ponte e sono in slovenia eccoci qua petrol benzinaio casino subito e niente questa è la situazione e non e non e non Grazie.